Un programma rock'n'roll, questa cosa, voi applaudite al neo, ai neo, mamma mia No, bimbo Claudio, no, no, cosa fai, piangi, che è successo? Un bullo! No! Sì! Cosa t'ha fatto? Mi ha battuto così! E poi così! E poi così! Ma mi ha intaminato, ho capito, basta dire... E mi ha anche rotto il telefonino! Eh, vabbè, dai, pazienza, il telefonino... Era il tuo! Vabbè, fa niente, dai, il telefonino... Mi ha anche rubato la carta di credito... Cazzo, quella era la mia, veramente... Ma scusa, ma... Dai, faccio così, adesso lo becco, me la faccio ridare... Si sono approfittati perché sei piccolo, capito, quanti anni aveva quello lì? Trenta! Però la carta me l'ha ridata, eh! Ah, beh, vieni, che cavolo, come hai fatto a fartela ridare? Niente, vi ho detto che se mi ridava la carta poteva fare un giro con la tua fidanzata! Grande, furbo, poi, pam, gliela ha detto, te la sei presa, poi sei scappato! No, no, l'ho accompagnato! Lei sì che è un'amica, eh! Ah, senti, tieni, tieni la carta di credito, non usarla perché non ci sono soldi! Fatelo alzare il credito, barbone! So, perché a me inizia a piacermi a rode in una maniera spropositata! Attenzione, prego, allontanarsi dal palco centrale, ripeto, allontanarsi dal palco centrale! Sono in arrivo Mirabella e Draghi! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti! Grazie, ma sono molto lieto questa sera di presentarvi un numero che ci ha resi famosi in tutta Cinisello Balsamo, come vedete, sta già scalpitando! Signori, questa sera un numero con un animale feroce! Ma che animale feroce è questo qua? Il maiale inferocito! Vabbè, siamo a teatro, facciamo finta che sia un animale feroce! Attenzione perché il maiale mangia, si nutre, il maiale beve, si disseta, il maiale... No, no! È schifo che fa! Che cosa farà ora il maiale? Basta! Ve lo dico io! Il maiale farà un equilibrio sulle zampe posteriori! Cos'è? Un rituale magico? No, un pelo incarnato! Ma per favore! Attenzione, s'il vous plait! Acton bitten! Attention, please! Un pubblico intelligente avrebbe già applaudito! Va bene, va bene così, grazie! Più difficile equilibrio sul muso! Hop, hop, hop! Et voilà, et voilà, et voilà! Et voilà! A chiudere, triplo salto mortale! Facciamo un rullo di tamburi, patete i piedi per terra! Rullo di tamburi! Et voilà! Vai! E uno, e due, e tre! Ah! Peccato, ma... No, no, no! Ma no! Stai sbagliato! Ma per fav... Ma no! L'hai fatto il piercing! Va di moda! Ma che va di moda! Per favore! Ci sono i bambini che ci guardano... Che stai facendo? L'espirazione bocca a bocca! Ma guarda che questa non è la bocca! Infatti gli puzza l'alito! Ma che ne puzza l'alito, per favore! Attention, please! Triplo salto mortale! Rullo di tamburi, per favore! Vai! Uno, due, e mezzo, no! No, 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 no! 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 Ma per favore! Per favore! Basta con la violenza! Signor! Che stai facendo? Stretching! Ma che stretching! Signor! Basta con la respirazione! Ultimo tentativo! Triplo salto mortale! All together! Oh! Uno, due, e mezzo, no! Non fargli del mare! No, no! No! Che ci sono i bambini che ci guardano la casa! No! No! Ci sono! No! 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 Ma no! Bambini, non fate queste cose a casa vostra! Vatele a scuola! Vatele a scuola! Per favore! Vatele a scuola!